Nero a metà, aglianico, vinificato in bianco. Questo è un vino decisamente inusuale che nasce dall'intento di famiglia da sempre di sperimentare le grandi potenzialità di questi vitigni e di questi vini e quindi di conoscere sempre meglio quali siano i confini, le opportunità che riservano queste antiche varietà in questi territori. Tra le varie sperimentazioni, sul vitigno aglianico si è fatto un lavoro importante per comprenderne la versatilità e quindi sull'aglianico si è lavorato ovviamente con i grandi taurasi da invecchiamento, si è lavorato con le muffe nobili, si è lavorato con la vinificazione in rosa, ma si è sperimentata anche la vinificazione in bianco di questo vitigno. Nero a metà è appunto il frutto di questa sperimentazione, un blanc de noir che nasce in Irpinia, nasce nel cuore dell'areale di produzione del taurasi di OCG, quindi con i suoli tipici dedicati alla produzione delle uve per i grandi rossi. Ovviamente in questo caso raccogliamo queste uve anticipatamente, in maniera tale da mantenere questa grande freschezza, acidità, evitare di accumulare eccessivo contenuto zuccherino e quindi alcolico e mantenere quindi una grande eleganza e finezza alla degustazione. Quali sono i caratteri di un vino prodotto dall'aglianico ma vinificato in bianco? In primo luogo l'azzeramento del contatto con le bucce riduce l'estrazione della componente tannica dalle bucce medesime e quindi questo significa avere un aglianico che presenta dei caratteri anche dal punto di vista olfattivo estremamente delicati rispetto alle note classiche di frutta che richiamano la ciliegia, che sono degli scrittori più tipici di un aglianico vinificato tradizionalmente in rosso. In questo caso noi viriamo verso dei frutti molto più delicati, rosa, per esempio si sentono delle note molto spiccate di fragolina di bosco che sono un marcatore molto interessante di questo vino, poi abbiamo anche delle note floreali molto belle e quello che è molto particolare anche è il colore perché l'assenza di contatto con le bucce rende questo vino di una colorazione che non va tanto sul paglierino quanto sui riflessi di grigio, come se fosse una pietra preziosa. Quindi questo suo carattere inusuale si accompagna anche nella fase di degustazione con una grande versatilità che va da una finezza, da un tocco sottile al naso fino alla fase del palato dove avviene questa magia di una espansione dei caratteri dell'aglianico che danno tutto il loro contributo di struttura, di corpo e che consentono a questo vino una grande ampiezza di abbinamenti con i cibi, dai piatti a base di pesce fino ad arrivare alle carni bianche o ad abbinamenti con alcune tipologie di formaggi. Quindi invito a sperimentare questo originalissimo frutto dell'aglianico in bianco che si chiama appunto nero a metà. Grazie a tutti! Grazie a tutti!